Cari fratelli e sorelle dei gruppi di preghiera di Padre Pio, vi saluto da quello che è il nostro luogo più sacro e più significativo, esattamente dal lato delle spoglie e delle reliquie del nostro Santo Padre Protettore. Da qui vorrei dirvi buona Pasqua, anche se so che si tratta di una Pasqua particolare, quella di quest'anno. Probabilmente non dovremmo contare il giorno del rituale della Pasqua, la domenica 12 di aprile. La Pasqua che attendiamo probabilmente sarà un po' più in là, non sappiamo bene quando, e sarà la sconfitta di questa pandemia mondiale, del virus che sta mettendo a dura prova ogni nostra famiglia, ogni nostra città, le nazioni e il mondo intero. Ecco, Padre Pio ci ha insegnato tante cose, nella sua vita di testimonianza ci ha insegnato che la carne di Cristo è l'umanità intera, l'umanità ferita, e quindi contempliamo negli ammalati, in chi muore, in chi soffre, in chi lotta, in chi è in ansia, in chi è chiamato a mantenere la vita sociale reale, in chi si sta disperando per la perdita di lavoro, per la crisi. Contempliamo l'umanità del Signore stesso, ferito, segnato dalle stigmate, segnato dal peso, del dolore, della sconfitta, della sofferenza e della stessa morte. Sappiamo però che questa non è l'umanità finale, l'umanità finale è quella risorta, è la carne del tuo figlio, crocifisso sì, ma risorto, che pur mantiene i segni della morte, della croce e delle stigmate. La Pasqua è questa, San Pio da Pietralcina l'ha vissuta nella sua vita terrena, la resa visibile. È per quello che noi, come Suoi devoti, come partecipanti di quella missione che è nata dal Suo cuore, di essere gruppi di preghiera, vogliamo in questo momento essere particolarmente attivi e mettere tutto noi stessi per intercedere per questa umanità, per chiedere la fine di questo flagello. È possibile, è possibile grazie alla preghiera che San Pio considerava l'arma più importante che raggiungeva il cuore di Dio e il cuore di Dio toccava poi il cuore e la forza di ogni persona e lo può fare. Ecco che la nostra preghiera sia in questi giorni più forte, più convinta, più piena di speranza, più aperta alla luce della Pasqua e anche gesti di carità, di testimonianza, di amore. Nel farci nascere come gruppi di preghiera ci ha affiancati, adesso lui stesso, a casa sollievo della sofferenza come cittadella della carità e oltre a casa sollievo che è l'opera chiara del suo cuore. Ecco quante case che stanno lottando contro questo male ci sono nel mondo. Ecco la nostra preghiera, la nostra carità e il nostro sostegno vuol tenerle tutte e vuol pregare e offrire per tutte. Se è vero ed è vero ecco che siamo chiamati ad essere vivai di fede e focolai di carità. Questo è il momento particolare, questo è il momento in cui la nostra fede si deve fare vivaio nelle nostre famiglie, nelle nostre case e la nostra carità deve veramente accendere di tenerezza e di gesti concreti questa umanità sofferente. Vi auguro quindi una buona Pasqua così, che non ha una data sicura ma la certezza della speranza della vittoria, la certezza che viene dalla nostra fede in Cristo crocifisso risorto e dalla nostra partecipazione alla missione, alla vocazione e al carisma che San Pio de Pietralcina ci ha lasciato. Mi chiedo perché so che siete e non potete radunarvi come gruppo perché ognuno di noi è costretto giustamente per obbedienza a rimanere nel proprio ambiente, nella propria casa, ma siamo e siete persone di preghiera ad unirvi se potete almeno alla domenica attraverso la celebrazione della messa delle ore 18 che viene trasmessa proprio di qui attraverso le antenne di tele Padre Pio. Al termine rivolgiamo sempre la supplica a Lui perché sia intercessore e mediatore di questa vittoria di cui ne siamo certi anche se non sappiamo ancora il momento. Noi ci mettiamo la nostra parte e la nostra parte si chiama preghiera e carità. Ecco con queste parole vi aspetto ogni domenica alle ore 18 in questo luogo anche se ognuno nelle proprie case e vi auguro una buona Pasqua e scopriremo sempre di più la forza della preghiera e il valore immenso e vincente della carità. Buona Pasqua e che San Pio interceda per noi.